Salve a tutti ragazzi sono AlexDixD66 e oggi insieme a SuperKillerBlack vi farò vedere come montare la trappola elettrica Allora il primo pezzo è la batteria che si può trovare o qui per terra o lì sul bidone Allora lo montiamo e specifichiamo che mancano due pezzi Una tavola con sopra delle sbarre metalliche e una specie di specchietto Lo specchietto lo possiamo trovare o su questa finestra oppure dobbiamo saltare la recensione e lo troveremo su questa finestra Eccolo qua Ora torniamo a montarlo e mancherà solo l'ultimo pezzo C'è quello che è una tavola di legno con delle sbarre metalliche sopra Attenzione a non confondervi perché se noi scendiamo giù noteremo che c'è una tavola di legno alcune volte Quella serve per l'Ester Egg e si trova precisamente qui per terra Attenzione a non prenderla perché è quella sbagliata Quella che serve a noi si può trovare o qui oppure dobbiamo risalire al piano di sopra E la troveremo vicino alla lapide Infatti andiamo e sarà lì Ecco qua la tavola che vi serve è proprio questa qui con delle sbarre metalliche sopra La prendiamo e la andiamo a montare Una precisazione purtroppo la trappola elettrica come la mitraglietta che si costruisce in fattoria non funziona senza turbina Per questo ho portato dietro una turbina per farvi vedere come funziona Allora noi prendiamo la trappola e vicino alla turbina produrrà le scosse Ma appena noi la leviamo come vedete la trappola smette di funzionare Bene questo è tutto mettete un mi piace al mio video iscrivetevi al mio canale e ci rivediamo al prossimo video tutorial Grazie a tutti